E quindi se una pacchetta qua deve dare risolto a te? Yeah! Che c'è? No 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 Grazie Paolo, grazie Scusa, ma tu parli italiano? Yeah Eh ma questo è il pacchetto del tribunale Yeah! Sì? Yeah! E i vigili non ti dicono niente? No! Perché no? No Sanno paura di te? Yeah Non ti fanno la multa che stai qua? No E quanto guadagni? Centa euro al giorno? Yeah 50? Yeah 50 al giorno? Ognuno di voi guadagna 50? Yeah Posso lavorare con voi? No Ma quindi se una pacchetta qua deve dare risolto a te? Yeah Ma io non ce l'ho Ma tu chiedi il numero a tutte le ragazze? Ah Tra tutte le ragazze chiedi il numero Io sto a torno che giro mi capivo Allora so Ma tu è proprio tu lo fa questo Questo è un manaccio Questo è un manaccio Questo è un manaccio Era finito la cura Scusa ma questo è il parcheggio del tribunale? Sì Sì Ah E poi c'è questo Stratto? Sì Eh però non c'ho storia Non ti dicono niente Che stai qua vicino Sì Ti fanno la multa Qualche giorni sì Che stai qua vicino